E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie, abbonati al canale. Buona visione! Di proposito, io non ho esposto chiaramente tutto il come e il perché di queste cose, poiché mi riservo, quando tu mi chiederai di farlo e quando sarai capace di riceverlo, di ispirarti dall'interno con una visione dello sviluppo della mia idea divina e della sua finale perfezionata espressione, molto più vasta di quella qui raffigurata. Se adesso ti comunicassi il significato reale delle mie molteplici aspirazioni, prima che tu fossi capace di sperimentare coscientemente la loro verità, tu non crederesti alle mie parole, né comprenderesti la loro applicazione intima e il modo di adoperarle. Perciò, mentre io comincio a svegliare in te la realizzazione che io sono dentro e rendo sempre più la tua coscienza umana un canale impersonale per mezzo del quale io possa esprimermi, ti rivelerò gradualmente la realtà della mia idea, disperdendo ad una ad una le illusioni del tuo lungo passato le quali mi hanno celato a te e potrò così al fine manifestare sulla terra, attraverso di te, i miei celesti attributi in tutta la loro umanamente divina perfezione. Io ti ho dato qui solo un barlume della mia realtà, ma precisamente nella misura in cui ciò che ti viene rivelato ti riesce chiaro. Molto di più ti sarà dischiuso dall'interno e sarà ben più meraviglioso di quanto esso ti sembri ora, poiché la mia idea interna, allorché splenderà finalmente attraverso il tuo involucro di carne, ti costringerà ad adorarmi e glorificarmi molto al di sopra di tutto ciò che la tua mente e il tuo intelletto umani concepiscono ora come Dio. Ma prima che tu possa divenire conscio di tutto questo e veramente comprenderlo, tu e la tua personalità umana dovete rendere possibile a me di rivelarlo, volgendovi a me dentro come l'una e unica sorgente, recando a me la coppa assolutamente vuota del sé, con mente e cuore semplici come quelli di un bambino. Allora, e solo allora, quando nulla della coscienza personale umana rimarrà ad impedire che io ti ricolmi fino a traboccarne con la coscienza di me, potrò additarti gli splendori del mio reale intento per il quale questo messaggio è soltanto una preparazione esterna. Tuttavia, è giunto per te il tempo di comprendere qualcosa di tutto questo. Abbastanza ti è stato rivelato per prepararti a riconoscere la mia voce che parla dentro di te. Perciò procederò ora come se tu realizzassi che io sono dentro di te. Tutte le verità che espongo per mezzo di queste pagine hanno il solo scopo di imprimere più fortemente nella tua coscienza quegli aspetti della mia idea che tu non potresti ancora in modo chiaro ricevere direttamente. Quanto di ciò che è scritto qui ti appare come verità e ti attira è quindi solo una conferma di ciò che la mia idea si è finora sforzata di esprimerti dal di dentro. Quanto non ti attira non ti persuade e non riconosci come tuo lascialo è segno che io non desidero ancora che tu lo accetti. Ma ogni verità che espongo qui avanzerà vibrando finché non raggiungerà le menti che io ho stimolato a riceverla poiché ogni parola è piena della potente energia della mia idea e alle menti che percepiscono la verità in esse celata questa verità diviene una realtà vivente essendo essa quella fase della mia idea che esse sono ora capaci e degne di esprimere. Poiché tutte le menti non sono che aspetti della mia mente infinita ossia le parti di essa manifestantisi in forme differenti di natura mortale. Quando io parlo per mezzo di queste pagine alla tua mente e ad altre menti parlo soltanto al mio sé mortale pensando con la mia mente infinita e sospingendo la mia idea in manifestazione terrena. precisamente così tu subito penserai i miei pensieri e sarai conscio che io parlo direttamente all'interno della tua coscienza umana e allora non avrai più bisogno di ricorrere a questo libro o a nessun'altra mia rivelazione esterna scritta o parlata allo scopo di percepire il mio intento. perché non sono forse io in te non sono io te e non sei tu uno con me che vivo nella coscienza di tutte le menti e mi esprimo per mezzo di esse conoscendo tutte le cose. A te non resta che entrare nell'onniscienza della mia mente e dimorarvi con me come io dimoro nella mia idea nella tua mente allora tutte le cose saranno tue come ora sono mie essendo solo l'espressione esterna della mia idea ed esistendo solo in forza della coscienza che io diedi loro quando le pensai in esistenza. È soltanto questione di coscienza di pensiero cosciente tu tu sei separato da me solo perché pensi di esserlo la tua mente non è che un punto focale della mia mente solo solo che tu lo comprenda ciò che chiami la tua coscienza è la mia coscienza tu non puoi neppure pensare e ancora meno respirare ed esistere senza che la mia coscienza sia in te non non lo comprendi ebbene allora pensa credi che tu sei io che noi non siamo separati che non possiamo essere separati perché siamo uno io dentro di te e tu dentro di me pensa che è così immagina risolutamente che è così e veramente all'istante in cui tu sei conscio di questo tu sei con me nel cielo tu sei ciò che credi di essere nulla nella tua vita è reale o ha valore per te se non in quanto tu pensi e credi che ne abbia quindi non pensare più che sei separato da me e dimora con me nel regno impersonale ove tutto il potere tutta la sapienza e tutto l'amore la triplice natura della mia idea aspettano solo di esprimersi attraverso di te io ormai ho parlato molto su questo soggetto e apparentemente ho detto la stessa cosa più di una volta benché con parole differenti ma ho fatto ciò espressamente ti ho presentato il mio intento sotto luci diverse perché tu possa al fine comprendere la mia divina impersonalità che è in realtà la tua impersonalità sì io ho ripetuto e continuerò a ripetere ancora molte verità e tu puoi trovare ciò tedioso e non necessario ma se tu leggerai attentamente troverai che ogni volta che ripeto una verità aggiungo sempre qualcosa a ciò che ho già detto e che ogni volta si fa sulla tua mente un'impressione più forte più duratura se è così il mio scopo è raggiunto e ben presto la tua anima realizzerà questa verità ma anche tu che non comprendi gusterai ogni parola e leggerai rileggerai molte volte e acquisterai di conseguenza tutte le meravigliose perle di sapienza che io servo per te e questo libro e il suo messaggio saranno per te d'ora innanzi solo una fonte di ispirazione ossia una porta per mezzo della quale tu diverrai idoneo ad entrare nello stesso impersonale e a mantenere dolce comunione con me tuo padre nel cielo mentre ti insegnerò tutte le cose che tu desideri sapere ho raffigurato lo stato impersonale da molti punti di vista allo scopo di renderlo così familiare che tu possa infallibilmente distinguerlo da tutti gli stati inferiori ed imparare a dimorare coscientemente in esso a volontà e quando potrai coscientemente dimorare in esso in modo che le mie parole ovunque in qualunque tempo proferite possano sempre trovare accoglienza e comprensione nella tua mente allora ti permetterò di adoperare certe facoltà che ho risvegliato in te queste facoltà ti renderanno capace di vedere sempre più chiaramente la realtà delle cose specialmente le debolezze le colpe le mancanze come anche tratti belli e piacevoli nelle personalità che ti circondano ma tu sarai reso atto a scorgere queste colpe queste mancanze non perché tu possa criticare o giudicare i tuoi simili ma perché io possa far sorgere in te la risoluzione di sopraffare sopprimere quelle colpe e quelle mancanze della tua personalità poiché bada tu non le rileveresti se non le avessi ancora in te stesso già che io dentro non avrei più bisogno di richiamare ad esse la tua attenzione siccome tutte le cose sono fatte per essere adoperate e soltanto per questo studiamo un po' quale uso tu hai fatto finora di altre facoltà doni e poteri che ti ho dato a quest'ora tu sarai convinto che io ti ho dato ogni cosa tutto ciò che hai che sei sia buono o cattivo gioia o dolore successo o di insuccesso ricchezza o povertà tutto io ti ho dato e ho attratto a te a quale scopo per adoperarlo e svegliarti al riconoscimento di me quale donatore così anche prima di tale riconoscimento tutte le cose che possedevi avevano la loro utilità e se tu non eri conscio della loro utilità era solo perché non potevi riconoscere me quale donatore né tu potevi riconoscermi come tale finché non sapevi che io sono il donatore infatti la tua personalità si era così immersa nel travaglio di liberarsi di certe cose che ti avevo detto o di buttarle per altre che credevi migliori che naturalmente non potevi neppure sognare e ancor meno riconoscere me il tuo sé come il donatore invece ora tu riconosci me come il donatore come l'intima essenza il creatore di tutte le cose nel tuo mondo e nella tua vita e perfino del tuo presente atteggiamento verso queste cose entrambe queste disposizioni di animo sono opera mia sono soltanto le fasi esterne del processo che io adopero nell'esprimere la mia idea della tua perfezione interna la quale perfezione essendo la mia perfezione si sviluppa gradatamente dal tuo interno man mano che tu approfondisci meglio questo ti sarà rivelato lo scopo delle cose delle condizioni e delle esperienze che ti mando poiché allora tu comincerai a scorgere qualche barlume della mia idea interna e scorta questa idea tu comincerai a conoscere me il tuo sé reale ma prima che tu possa veramente conoscermi devi imparare che tutte le cose che io ti do sono buone e servono per servire me che tu personalmente non hai interesse né diritto su di esse e che giovano solo in quanto tu le metti a tal servizio io posso esprimere per mezzo tuo bellissime sinfonie di suoni di colori di immagini sotto forma di musica pittura e poesia secondo la terminologia mortale e le opere tue possono talmente colpire gli altri da farti acclamare come uno dei grandi del giorno posso parlare per mezzo della tua bocca o ispirarti a scrivere molte bellissime verità che attirano a te molti seguaci i quali ti salutano come il predicatore l'istruttore più meraviglioso posso perfino risanare per mezzo tuo certe malattie cacciare i demoni far vedere i ciechi camminare gli sciancati e compiere altre opere stupefacenti che il mondo chiama miracoli si io posso fare per mezzo tuo tutto ciò ma nulla di ciò gioverà la tua personalità se tu non adopererai non applicherai queste armonie di suoni in ogni tua parola di modo che esse sembrino a tutti gli uditori una dolce musica celeste se il tuo senso del colore della proporzione non si manifesteranno nella tua vita in modo che da te fluiscano solo pensieri gentili elevati salutari provando così che la sola vera arte è quella di vedere chiaramente la mia perfezione in tutte le mie umane espressioni e di permettere al potere vivificatore del mio amore di riversarsi attraverso di te nei loro cuori raffigurando alla loro visione interna la mia immagine ivi celata così pure nessuna autorità potrai esercitare siano pure meravigliose le verità che io dico o le opere che io compio per mezzo tuo se tu tu stesso non vivi queste verità ogni giorno ogni ora se non fai servire queste opere come un costante memento di me e del mio potere che io riverso largamente per te mio diletto e per tutti perché si è adoperato al mio servizio e a te a cui apparentemente non ho elargito nessuno di tali doni e che ti reputi indegno e non ancora abbastanza avanzato per servirmi in quel modo a te io dico precisamente nella misura in cui tu sinceramente riconosci me dentro e cerchi con vero fervore di servirmi precisamente in quella misura io ti adopererò non importa quale sia la tua personalità non importano le sue colpe le sue tendenze le sue debolezze io farò compiere anche a te che cerchi di servirmi così molte cose meravigliose nel risvegliare e vivificare i tuoi simili ad un uguale riconoscimento di me io farò in modo che tu possa influenzare le vite di molti di quelli che vengono a contatto con te ispirandoli ed innalzandoli a più alti ideali modificando il loro modo di pensare e il loro atteggiamento verso il loro prossimo quindi verso di me sì tutti voi che cercate di servirmi non importa quali siano i vostri doni io vi renderò atti ad essere una forza vitale per il bene della comunità trasformando il tenore di vita di molti ispirando e plasmando le loro aspirazioni ed ambizioni divenendo insomma un fermento benefico in mezzo alle attività mondane in cui vi collocherò ma tu intanto non saprai nulla di tutto questo tu forse aneli ancora servirmi e brami una coscienza più intima di me credendo di non fare nulla di commettere molti errori e di non riuscire a vivere il più alto ideale di me non comprendendo che questo anelare e bramare sono appunto i canali per mezzo dei quali io riverso la mia forza spirituale che essendo completamente impersonale viene adoperata da te senza avere coscienza che sono io dentro di te che l'adopero per elaborare il mio intento nel tuo cuore e nella tua vita e nel cuore e nella vita degli altri miei e tuoi se così quando arriverai al fine a comprendere tutto questo come certamente arriverai e lo proverai con l'uso pratico di tutto ciò che possiedi in mio servizio io ti darò gradatamente la forza e l'abilità di usare coscientemente ed impersonalmente il mio potere la mia sapienza e il mio amore nell'espressione della mia idea divina che si sforza eternamente di manifestare per mezzo tuo la sua perfezione perciò vedrai ben presto che la tua personalità umana con tutte le sue facoltà poteri e possessi i quali in realtà sono i miei e che agiscono per mezzo tuo è pure completamente per il mio servizio e che il vero successo e soddisfazione non si possono trovare che in tale servizio come il seme piantato sviluppa la pianta così tale uso sviluppa l'abilità di usare coscientemente tutte le mie facoltà spirituali nell'espressione finale perfetta della mia idea che può essere espressa solo per mezzo della tua personalità umana di usare di usare di usare di usare la mia